No, io devo salire con lo sterno in alto, esatto, e poi ruotare staccando solo la scapola, però il mio sterno continuo a guardare in alto, non vado in chiusura, rimango aperto col torace e aperto con i gomiti, quindi quando ho le mani dietro intrecciate, questa struttura deve rimanere una struttura aperta. Io salgo e premendo sul gomito di terra stacco la scapola. Quando scendo piego le ginocchia, passo dal centro, sono sempre in crunch e cambio. È importante però che il gomito che va a terra fa da leva per salire e la gamba che si distende, si distende talmente tanto che lascia che il mio gluteo rimanga a terra. Non deve succedere questo, che io inizio a basculare. Questo è sbagliato. Non c'è isolamento a livello del corsetto addominale in torsione. All'oblico interno non vi lavora, o comunque vi lavora poco, per effetto del bacino che si muove. Quindi io nel sollevarmi chiudo il corsetto, mantengo aperta la struttura toracica e ruoto. Il torace però va sempre verso l'alto. La distanza dell'alimento dallo sterno rimane sempre invariata. Concentratevi sulla gamba che si stende perché è quella che fa da contrappeso per tenere fermo il bacino. Quindi l'oblico interno e l'oblico esterno si attivano quando io ho la rotazione e la chiusura. Quando prendo aria passo dal crunch con le gambe unite, cambio il lato, giro, leva sul gomito a terra e ritorno. Quindi è importante non che chiudo lo spazio, ma che faccio leva sul gomito durante la salita per sentire meglio la torsione toracica. Ciao. Grazie a tutti.